salve a tutti e benvenuti in un'altra puntata di quanto è pippa alberto insomma da kyle il nostro pierdo of mana non lo ricorderò mai e da me oggi giochiamo un mazzo vecchio ebbene si giochiamo mazzo vecchio perché perché ce l'avevo in disparte mi piace come tipologia di mazzo non ha ricevuto pesanti power up nell'ultima espansione e quindi lo proponiamo nella salsa nella salsa della scorsa season sto parlando del ractos midrange 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 allora ractos perché rosso nero ovviamente midrange perché le sue creature e la sua efficacia è appunto a midrange cioè non è né early game né late game è midrange quindi la sua potenza appunto la trova nel midrange cioè tra il secondo il terzo e il quarto punto noi giochiamo in questa finestra andiamo a vedere nell'ordine perché giochiamo in questa finestra innanzitutto è un mazzo che gioca tot creature grazie al cozzo tot gioca 22 creature 22 creature e pochissime spell queste creature sono tutte quante creature che fanno qualche cosa in più non è non sono creature che hanno diciamo sono lì e rimangono lì ma sono quasi tutte creature che hanno un'abilità secondaria per esempio abbiamo crocsa crocsa ha un'abilità secondaria a escape quindi noi giocheremo crocsa all'inizio per poi rigiocarcelo al quarto turno pescaggio crocsa è crocsa è inutile per spendere parole su crocsa è altisonante come spendere parole su palchi idem stesso discorso se lupeschi all'inizio giochi la piangura altrimenti più avanti arriva tibalt e non è male skylight shade questa è la carta anti rimozione perché a meno che non te la distruggo e non te la rimuovano dal cimitero questa continuerà a ritornare a ritornare a ritornare e se hai abbastanza mano ritornare anche con bel power up ma il triton il tritone il tritone macina questa anche è una carta che ha un'abilità che è essere un 2 1 ma avere quindi diciamo tutte quante le creature hanno questa caratteristica quindi boncash giant fa danni a wall strider è la wall strider e poi abbiamo lui il predator io l'ho soprannominato il nuovo corvold perché fondamentalmente la sua abilità è molto molto simile a quella di corvold tranne che corvold ti fa pescare mentre lui no lui però ti fa eliminare le carte dal cimitero anche dell'avversario ti fa eliminare le carte dal cimitero anche dell'avversario e si pompa sacrificando una creatura diventa indistruttibile se poi la creatura in questione per dire è un tritone o una pedina di timaret calls the dead timaret calls the dead con lì che tu sai in che mani sei andato agron war è qui perché esiste l'eventualità che il nostro avversario il nostro opponent cali qualcosa di grosso ci sta noi ce lo prendiamo e poi lo sacrificiamo village rights e claim the firstborn sono in assoluto due carte molto molto infami e malvagie e possono essere giocate in combo perché se costa 3 o meno tu prendi o claim the firstborn la prendi ci attacchi quando è finito e se ci hai messo un predator praticamente ci vuoi diventare indistruttibile cioè puoi fare tante cose con se hai tante carte in mano tante carte in gioco i permanenti e via diciamo quindi menzioniamo c'è uno per di ghost band dragon perché mi piace perché mi piace e perché la la lo slot a costo 5 cioè noi abbiamo un buco tra il quattro il il mana value 4 fino a arrivare a otto a sette dei valki questo dislivello a me non piaceva allora ho inserito sia uno per ghost band dragon e uno per di professor onyx specialmente professor onyx anche se non giochiamo instant sorcery quindi possiamo triggerare l'abilità del magecraft comunque noi possiamo dargli più perdere un punto vita e caricare il cimitero per far entrare le altre creature senza contare che a meno 3 fa sacrificare creatura la creatura più grossa che sta dall'altra parte quindi comunque professor onyx non è una carta da sottovalutare secondo me anzi dentro questo mazzo secondo me può fare tante tante belle cose comunque questa era la spoiler questo è il mazzo noi cercheremo di macinarci e triche fare trigger e distruggere il nostro avversario non ci resta andare a provarlo speriamo di non dover crashare un'altra dieci volte ecco a dose che brutto nome dose è inquietante hai avuto la ho avuto la mia dose dose vabbè questa mano non mi piace particolarmente però la tengo ma non mi piace particolarmente la sto tenendo giusto perché c'è valki boncrusher timareth ma sto valki mi piace se tre vanno bene ma valki no 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 signor valki non è sacchi oh ma ciao ma ciao splendore quanto ma rapa Liliana quanto ma no oh regali c'è 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 qualche disturbo non lo so ma a me Liliana Vex ma rapa proprio oppure poi poi nella versione professoressa sexy ah scusate c'è una love track beast nel frattempo dicevo una versione professoressa sexy eh ma a Liliana mi dispiace ma ravi comunque world 3 zago triom che cazzo è sul tai sul tai che sul tai sei vabbè a noi ci serve innanzitutto il doppio abbiamo sia il doppio nero del doppio rosso a posto vai timareth subito attacco anche se da quello che sto vedendo qui mi sa che lui è un mazzo a creature ah non te voglio tanto non c'ho niente per recuperare dal civitarone peccato il predator nel civitarone mi dice proprio male lui è un mazzo a creature quindi lui si giocherà la love track adesso eh il claim avrebbe fatto comodo vabbè possiamo facilmente uccidere l'umano fortel che sarà vorrà farvi scartare quindi ha deciso di non fare nulla lui e io a sto punto valco eh vabbè ma questa è sfiga eh vabbè ma c'è perché c'è poco da fare qui a sto punto io mi gioco il mio valky no attacchiamo prima prima si attacca ok ha furato ciò valky e da questo valky noi decideremo che cosa fare con la sua mano che non ci crede infatti fail wish in keeper e binding the old god quindi se allora lui vuole fare cultivate quindi via via proprio e questa quindi la mettiamo come terra tappata se lui fa binding the old god noi peschiamo ok ci sta ci sta c'è un piano definito in questa situazione così lui ha trovato binding the old god adesso o cultivate cosa vorrà fare sono noi che fa binding the old god su valky perché così rampa pure comunque insulta i control praticamente con le adventure mi pare di averlo già adocchiato recensito da qualche parte sono sicuro che cosa ti stai prendendo che terra vuoi verde e blu cercherai un rosso noi abbiamo palesemente doppio nero noi abbiamo palesemente smesso di sperare in tibalt quindi ok scry doppia terra doppia terra no doppia terra non va bene via una e via pure l'altra ok ok se lui accetta il trade noi spariamo perché vuol dire perché vuol dire che l'ultima cosa che vuole è giocare se è binding the old god è qua sopra perché sa che noi possiamo avere una contromisura al riguardo allora lui gioca a creature quindi la shutter scroll è un altro sparo me lo voglio tenere nell'eventualità che pesca un'altra terra e comunque ci abbiamo croxa al mostredi dal cimitero dopo village ride village ride c'è da dire che se lui vuole pescare la terra vuole pescare con l'obstruck beast ecco appunto deve fare prima binding the old god full control dopo pure ripia io pesco due però anzi ti ringrazio tanto anche perché noi siamo arrivati ai 6 mana per professor onyx e tu amico mio non sai quello che abbiamo in serbo per te wow un altro croxa io strider ottima abbiamo 7 cat nel cimitero vai croxa via 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 allora questa può trigger con timaret visto che non ha un altro umano questo pure questo no valki si e sto timaret no quindi via valki trigger quindi qua c'è un fail wish dall'altra parte che cosa ci sarà pensa quanto ti è costato una terra pensa quanto ti è costato voler pescare per forza una carta con sto king keeper ok 1 2 3 4 5 6 7 teoricamente potrebbe fare ultimatum se lo avesse e se lo giocasse ma qua secondo me c'è un altro turno infatti arondepifani ma bene nessun problema giocati in altro turno altro turno tu lo userei per fare fail wish sicuramente però noi il prossimo turno probabilmente vinciamo dico probabilmente perché non è sicuro però allora noi abbiamo danni letali ma abbiamo 10 danni potrebbe fare blockchip tierst su croxa cattivo va bene blockchip beast ok tu sei sicuro di quello che hai appena fatto my friend my my beautiful and simpatic player friend allora a me salovstruck mi rompe i coglioni perché ci sono tanti 1 1 però non ho il mana per distruggerli si ce l'ho il mana per distruggerli tutti quindi facciamolo 1 2 3 fago 3 via 1 via 1 aspetta up to target è vero non posso farlo su tutti e 3 ah vaffanculo ma gioco la terra ora doppia spell questo turno si andiamo sulla doppia spell quindi facciamo gigante così la lovestruck si struck e strider noi abbiamo due carte nel cimitero il turno dopo facciamo timaret next no attack dispari e pari ok dispari pari 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 visto che wish mi rompe proprio le palle però se riesco a giocarme professore no mi conviene prima dopo fare timaret e croxa cazzo ce l'ha cazzo gioco ultimato perché build diversa strana a blood chief you wish vediamo che prende magari non è persa magari riusciamo ucciderlo di croxa anche perché ci sono delle cose che noi possiamo fare noi abbiamo professor onyx adesso allora anche lui c'ha professor onyx va bene gioca due turni idiota dovevi giocare prima professor onyx non ti trigger al mage craft adesso si se tu mi fai sacrificare io levo la strider che levo tu potresti comunque attaccare intanto io penso che fa meno tre se se fa meno tre a noi non ci va male fa più uno va bene noi faremo meno tre all'obstruck se ne va a casa attacchiamo con tutto lo uccidiamo il prossimo turno ce la possiamo fare ci abbiamo abbastanza vita per far sta cosa bisogna vedere se lui attacca io spero che attacca ok perfetto perfetto vai vai no block i più tutti allora eh mo però fa meno tre è vero c'è un altro turno sto stronzo con un altro ultimatum concedo con un altro ultimatum io concedo no anche con boring lex concedo non ce la faccio non ce la faccio sì vabbè da tyson col col teferi sta gente con questo senso dell'umorismo deviato non la capisco proprio c'è proprio un senso dell'umorismo deviato deviato oh ghost and dragon predator co qua non c'ho male a me serve la terra ce la famo sì dai ma guarda non c'è come la me oddio che palle non c'ha di fantasia proprio ah beh qua c'è una sì ecco ma love the sky clay che palle madonna banale scontato telefonato proprio sono questi momenti in cui mi piacerebbe avere rimozione a esilio sfortunatamente non ce l'ho quindi mi accontenterò di fare timaret e macinarmi e macinarmi praticamente tutto il mezzo che un po' riparò timare addio predator e due predator sono andati a finire nel cimitero ah no l'altro fortunatamente l'ho shatler is fine divertite che proprio scatola ho pure troppa ah beh allora perché se pensi che voglio vincere con drago hai capito proprio tutto se penso di vincerla perché questa io non penso di vincerla cioè sto prendendo veramente una valanga di danni pur dopo sono morto è stato un piacere manco perdo tempo guarda cioè sono otto danni che cazzo faccio ma guarda te sta gente parco giuda che bucio di culo bucio di culo bucio di culo mamma mia che mano orribile che mano lenta e orribile il ghost band dragon non mi porta fortuna però che faccio la mollico questo potrebbe essere un altro mono rosso un mono bianco c'ho il gigante il gigante potrebbe essere l'ottima cosa invece no in selesnia e castello tappato allora due castelli c'ho nel mazzo per skydood due reclaim the waste ah paghiamo la curiosità io dico di si paghiamo oh oh ah ah io quasi quasi mi prendo scute swarm mi prendo scute swarm cazzo perché c'ho un piano diabolico si è affacciato in me io devo spettare a terra ho pescato un altro complimenti ma la differenza si spiega la differenza tra me e te qual è è che io ho lui la differenza è che io ho lui a costo 4 e io a sharn allora perfetto però questo turno devo prendere 4 danni no perché mi prendo gargaroth perché il prossimo turno cala gargaroth auto pay scute swarm pebble passage attiva nero al drago proprio non ci penso a giocarmelo me ne può fregare di meno blocchino cala terra quello che voglio fare io adesso è fare aggroan war sul gargaroth molto semplice nulla di nulla di trascendentale tenermi village right fino alla fine di aggroan war così che se lui fa qualcosa di strano ho il gargaroth che comunque viene sacrificato alla fine di aggroan war quindi mi devo ricordare che alla fine del secondo capitolo uff e mi devo fare le creature poi tra l'altro bravo ma fa la copia ma fa la copia che palle questo è un grosso enorme gigantesco problema c'è di buono però che aspetta posso giocarmi drago e faccio due mana all attack don facciamo la bestia o peschiamo una carta cosa è meglio facciamo la bestia che cazzo è un due trego vigilance che ti fa calare le terre dalla mano vabbè non ce la fa a pezzo è gg ma lui è convinto davvero in altro turn non ce l'ha però via yasharn via sclut swarm pesco aspettiamo si ok quindi che cosa fa questa è la fine no per dio ma maledetto bastardo non me l'ha fatto fa un tempo cristo ma porca di quella troia madonna mia cioè per dio non mi ha fatto entrare sono entrato in full control non mi ha fatto fare il sacrificio maledetto maledetto e dai per dio dammi croxa niente cioè perderla perché non ti fa fare gli instant quando metti gli stop è allucinante cazzo questo gioco è allucinante perché la partita era vinta perché sacrificavamo quel cazzo di quel cazzo di gargaroth ma non ce l'ha lasciato fare con tutto che avevamo gli stop ed eravamo full control ma bastardo gioco bastardo gioco cioè la partita era vinta mi sono dovuto ricordare cioè allucinante che porco dio per la madonna rischiate ho perso tre partite di fila perché non ce sa perché porca puttana gioco con la gente che non lo so tutti cheater maledetti cheater ma tanto do cazzo nate do cazzo nate sto drago mi porta sfiga volevo dal mazzo ogni volta ciò sto drago all'inizio perdo no dimmi rog no dimmi rog no maledetti bastardi voi voi i rog sicuro mosto mazzo mi macina tutte le gare dimmi rog che mi macina tutto il mazzo e io non e ci sono quattro crocs sul fondo del mazzo sul fondo del mazzo mio no no Non me la voglio giocare Ancora adesso più col Passager C'ho paura C'ho troppa paura di sto mazzo Però non sta giocando nulla Ha paura pure lui Ah, Agramaoli Interessante Ah, io non devo counter Quindi Allora si giocherà Eccolo Si comincia Guarda B5 Va bene Un bestimare Ghost of the Dead Sarebbe L'ideale Adesso Ma anche una terra Mi farebbe schifo Oh, pure Proxa va bene Iscrivito O allora sto augura mauling è meglio metterlo in gioco tappato a sto punto perché così ho ragionato la quarta terra con fable passage me prendo il mana rosso e mi posso rigiocare croc al prossimo turno quindi praticamente gli gioco croc ogni turno adesso così me svuoto il cimitero adesso al vol buona la strider buona un'altra strider con 9, 5 a posto rimangono 3 perfetto my turn allora intanto attacco ok rosso allora dobbiamo levare tutto quello che non posso riciclare quindi via tu via tu via tu e via tu e rimango con 4 gas vai 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 counter ora intanto 2 eh sono altri 6 lo so se pesco terra questa esilia 4 lui esilia 5 lui macina 4 il meggio croc sa e voilà 1 2 3 4 giusto 5 tritone vai rigantera va bene va bene eh mu come fai mu macina abbiamo perso abbiamo perso che palle perché sono 3 cioè è allucinante è allucinante come con una mano mediocre cioè che cazzo lo invento io perché se me gioco il drago non ci faccio un cazzo non mi allunga la vita perché comunque entrano 3 danni volanti non c'ho una rimozione non c'ho niente è stato un piacere signore cioè 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 è allucinante c'ho parole c'ho parole non c'ho me snerva non avere rimozioni non avere rimozioni me snerva in una maniera impressionante cioè dove giocare roba che non è una rimozione come se fosse una rimozione per rimuovere è una cosa proprio che me snerva a livelli pesanti vabbè qua niente companion quindi in aggro ci abbiamo dumana ci abbiamo croxa mo questa mo non c'ho quel cazzo del drago de merda senza spesa per il gosso del dragon che è un cartone mo questa probabilmente probabilmente la gioco e probabilmente la vinco dico probabilmente mo vediamo croxa se si aspettavo un turno mi facevo il tritone era pure meglio però preferisco mettere subito croxa nel cimitero specialmente questi mazzi qua anche questo sicuramente è monorosso sento la puzza di monorosso e io dal prossimo turno non voglio giocarmi il tritone ma voglio giocarmi di timaret o strider con la strider proprio è finita anax giù anax giù this is mono red they play mono red ok wow a sto punto meglio timaret o il tritone meglio il tritone brutta macinata brutta macinata che brutta non mi piace cioè l'unica rimozione del mazzo va bene ma magari ma tu sei proprio sicuro but are you really really sure così almeno siamo sicuri che qualcosa la leviamo tipo leviamo il tritone siamo a 6 carte nel cimitero con village right potremmo arrivare a 7 8 di rimanere il prossimo turno quindi crocs al prossimo turno se sopravviviamo all'emberklaid di questo turno quindi a si si amberklaid questo turno ah no fa frostbite e allora io ci pesco quindi non ce la fa fare amberklaid buono e io ho pescato benissimo ho pescato tanta roba buona eh rober of the rich rompe il cazzo buono ha reccato la terra buono eeeh sfiduone prendiamo un altro umano nero allora questo turno posso fare doppia spell però posso anche mettere crocs ah se c'ho quasi quasi si allora facciamo la ground war ci prendiamo anax turno dopo strider crocs e se peschiamo terra anche valky no non ce la famo stallero uh torbrando attacca attacca ok ok attacchiamo e ci giochiamo crocs via tu via tu via tu via tu e via tu e via tu prima che lui passa scatta va oh un amber clave prima che lui passa sacrifichiamo anax che bello l'oas Resolve Faccio la pedina A me me va bene Olè Bravissimo guarda Degno proprio Degno proprio Dell'accademia di magic 2, 4, 6 Allora io Per non sapere legge e scrive Mi risparo groxa 1 2 3 4 E una 5 3 bombe a te Next All attack And turn Allora ci manca Una terra per Valky Volendo ci abbiamo Un croxa di riserva Qui ma penso che questo Rimarrà Ad beatam 2 danni Un altro croxa qua Che è letale Va bene Allora non abbiamo pescato la shade Facciamo così E sto 3 danni Trigger Poi A rigroxa No 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 Fatta una cazzata Next All attack Strider And turn And turn Buono Fate play Nooo Volevo vincere con un altro croxa dalla mano Gigante Vabbè Vabbè Allora Beh Bisogna Essere Onesti Innanzitutto Secondo me Il mazzo Gira bene Se Ho perso le partite E' perchè Ho giocato male Ci sta poco da fare Perchè Perdermi Perdersi Determinati trigger Tra Una spell E un altro spell Perdersi Certe cose E' da nabbi E' da nabbi E' da nabbi Quindi Non mi sento di dire Ah si Il mazzo Non gira No Il mazzo gira E gira anche bene E quando non lo trovo davanti Mi menano Mi menano Perchè lo sanno giocare Perchè giocano quello Io purtroppo Giocando centomila mazzi diversi Ecco lì Che ogni tanto Mi se spacciola C'è bello Vaffanculo E che risultato Comunque no Il mazzo Secondo me Spacca E' figo E' bello E' divertente E' mental Anche questo Quindi Approved Noob Approved Per oggi E' tutto Un saluto da Kyle Kyle Il nostro Bird of Mana E da me Alla prossima succhiata